Specchio dei tempi è una rubrica di lettere a Torino probabilmente è la più amata perché il famoso refrain lo scrivo a specchio dei tempi è veramente in ogni casa su ogni tram per ogni strada in ogni stazione perché quando qualcosa non va si scrive a specchio dei tempi ed è questa un po' la forza di questa rubrica che da oltre 60 anni rappresenta gli umori dei torinesi è anche però la casa di una fondazione che fa un sacco di cose solidali bellissime a Torino in Italia e anche un po' in giro per il mondo cercando di essere utile a chi soffre a chi è in difficoltà a chi fatica a vivere. A Torino facciamo molte cose, l'iniziativa più tradizionale forse più importante è quella delle tredicesime dell'amicizia che vede tutti gli anni a Natale arrivare a 2000 anziani poveri e soli una sema da 500 euro e che rappresenta il regalo della Torino che sta un po' meglio alla Torino che sta peggio. Grazie per la visione!